Droga e armi. Pescarese arrestato nel quartiere Rancitelli. I finanzieri del comando provinciale di Pescara hanno sorpreso un giovane del posto ad un controllo dei baschi verdi in corso di pattugliamento assieme alle unità cinofile del gruppo. Il giovane era fermo a bordo di uno scooter quando è stato avvistato in zona Rancitelli. Alla vista dei militari ha tentato di partire ma è stato fermato e sottoposto a controllo. A fiutare l'ascisce è stato il cane antidroga Guillaume, pastore tedesco di sei anni. Non solo droga, con sé il giovane fermato aveva anche una pistola beretta calibro 6,35 risultata rubata e completa di caricatore contenente una cartuccia pronta a fare fuoco. I militari hanno posto tutto sotto sequestro assieme a due telefoni cellulari. Incensurato il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. Inoltre è stato segnalato come consumatore di droga la prefettura con rischio di ritiro patente di guida e altri obblighi.